La Polizia di Stato dell'Aquila, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia, ha portato a termine l'operazione Hello Bros. I arrestati, 30, sono ritenuti membri dell'organizzazione mafiosa nigeriana Black Axe, finalizzata al compimento di numerosi reati, tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche informatiche e riciclaggio attraverso compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Il capo dell'organizzazione, National Head, si trovava all'Aquila. Gli indagati sono 55 in totale, 12 sull'Aquila, sottoposti a perquisizione. Il capo aveva scelto la città perché in posizione strategica, vicina a Roma, aveva una casa regolarmente affittata. L'indagine è partita nel 2018 dall'indagine Papavero, nata per lo spaccio in centro storico, cui gli investigatori si sono resi conto che sotto c'era di più. Le indagini sono state svolti dalla squadra mobile, diretta da Marco Mastrangelo, con l'ausilio della Polizia Giudiziaria. Da un'altra indagine condotta dalla squadra mobile si è individuato un corriere che riforniva dei cittadini i gambiani, riforniva di droga. Dallo sviluppo, dall'approfondimento su questo corriere si è giunti all'identificazione di un soggetto nigeriano che era appunto il referente di questo corriere. La successiva approfondimento di questa figura ha permesso di ricostruire un'intera rete di contatti e di interessi che questa persona, questo soggetto nigeriano, aveva su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine, ha ricordato che la peculiarità è la deriva di questa organizzazione nel campo del riciclaggio fatto con tecniche particolari. L'accattonaggio veniva usato per iniziare nuovi adepti che operavano fuori ai supermercati delle varie città. Per riciclare, ha spiegato invece Fausto Lamparelli, direttore del servizio centrale operativo, usavano un sistema che consente di riciclare ingenti somme di proventi illeciti inviati in Nigeria, ma anche somme regolarmente acquisite attraverso attività come gli African Shop, che erano divenuti un punto di riferimento per coloro che volevano trasferire somme in Nigeria. La mafia nigeriana è una delle più pericolose, hanno sottolineato il procuratore Michele Renzo e il questore Gennaro Capoluongo. I Black Axe sono nati come confraternita universitaria, nata con le migliori intenzioni, sì, ma poi è degenerata nel tempo. Il commissario Benedetta Mariani ha seguito l'indagine sin dall'inizio. Sono stati monitorati i vertici del Calt, per l'ammissione a questo c'erano specifici riti e prove da superare che dovevano avvenire in Nigeria. Si facevano anche delle collette con la chat di WhatsApp per finanziare la sussistenza delle famiglie e delle persone arrestate, con un libro mastro per annotare tutto. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP Buccella su richiesta del procuratore Renzo e del sostituto Gallo. I reati commessi sono produttivi di molto denaro, reinvestito anche attraverso mezzi sofisticati quali i bitcoin. I bitcoin possono essere inviati e riscossi quindi in tutto il mondo e il Calt Black Axe è radicato nella maggior parte dei paesi del mondo. Grazie.